La pietra del re In tempi antichi un re fece collocare una pietra enorme in mezzo ad una strada, poi di nascosto rimase ad osservare per vedere se qualcuno si fosse preso la briga di spostare la grande pietra che troneggiava in mezzo alla via. Alcuni mercanti ed altri sudditi molto ricchi passarono da lì e si limitarono a girarle attorno, altri protestarono contro il re dicendo che non manteneva le strade pulite, ma nessuno di loro provò a spostare la pietra. Ad un certo punto passò un contadino con un grande carico di verdure sulle spalle. Avvicinandosi all'immensa roccia poggiò il carico al lato della strada per tentare di rimuoverla. Dopo molta fatica e sudore riuscì finalmente a spostare la pietra, spingendola fino al ciglio della strada. Tornò indietro a prendere il suo carico e notò che nel luogo in cui prima stava la pietra c'era una piccola borsa. La bisaccia conteneva molte monete d'oro e una lettera scritta dal re che diceva che quell'oro sarebbe stato per la persona che avesse rimosso la pietra dalla strada. Il contadino imparò quello che molti di noi neanche comprendono. Tutti gli ostacoli sono un'opportunità per migliorare la nostra condizione.